Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video del mio canale Oggi siamo qui in un nuovo video della serie Pokémon E partiamo subito a prendere subito questo calderone E vediamo che Pokémon troviamo Vai E troviamo Charmander Buono Charmander Buono Raga Sinceramente sto Charmander è buono Io vorrei fare una cosa Vorrei prima Portare Pidge A diventare un pigio Un pigio Anci Anci Facciamo così So che farò una cavolata vazzurda fare sta roba Però Voglio far questo Charmander Al posto Di Oddish So raga Molti mi diranno nei commenti Ma che sei mazzo Ma che sei pazzo Io raga ci provo Poi Vediamo Vediamo Poi vabbè Ho trovato questi Pokémon Che Scarsi Vabbè Comunque Facciamo qualche partita E poi vado a controllare Vado a controllare A che livello sia A che livello sia Valver Charmander Ma mi sembra verso il 17 Tipo Comunque Vai andiamo Partiamo subito Così diretti Vai Senza Raga Così diretti Andiamo Vai Proviamo a vincere la partita Abbiamo due starter Il mio obiettivo E' collezionare Almeno tutti gli starter Tutti gli starter Di sto gioco Che ci stanno In sto gioco Ok Perfetto Aia Raga Aia Velenati Non ci voleva Raga Devastati Tipo Eh Pure apigi Però Devastati Vai Graffio 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 Bravo Raga E poi questo è anche il pokemon Che volevo scegliere All'inizio della serie Quindi Mi sta anche bene Adesso vabbè Altri paraset E altri E canso E Schiattato Pigi Raga Me l'hanno asfaltato Che miseria Raga Vai Scappa Ok Pigi Distrutto Vai Ok Distrutto anche lui E Pigi Ritorna in vita Muori Ok Raga Storando Non lo vinciamo E Un parasenso Boh Raga Non mi ricordo Come si chiama Parsecto Ora Questi che so Se è quello Il parasecto Questi che so Non lo vinciamo Aia raga Questa è persa È persa Non lo sento Via 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 Vai Scappa Scappa Raffia Eh raga È morto Via 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 Eh raga Però se sono Scegliere Non scappano Via 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 Oddio Scappa Raga Scappiamo Scappiamo Raga No Sto parte È persa Via 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 Squirtle Dai Raga Eh qua Non possiamo Fare niente Sì Abbandoniamo Dunque raga Adesso vado a vedere A che livello Si evolve Charmander Sono andato a controllare E si evolve A livello 16 In Charmeleon E a livello 10 E a livello 36 In Charizard Quindi Il nostro Prossimo obiettivo È far arrivare Charmander Charmander A livello 16 Eh vabbè Qua è successo Un casino Comunque Andiamo qua Vai Creiamo Stufato A caso Da questo punto Creiamolo Per pokemon Tipo elettro Vai Vai E Vai Inizia Sì Per me Costa poco Due Perfetto Vai Il Secondo pokemon Della giornata Qual è E Dai un pikachu Un pikachu Ok No Noen Dai Raga Ma già ce l'ho Che sbocco Guardate Già ce l'ho Aspetta Però Aspettate Ma se io faccio Qua sprint E Sprinting Vabbè Io vado qua Metto Questo 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 Poi Questo E questo Aspiro Un attimo Aspiro Vabbè È vero Fa uno schifo Aspiro Lo porto A livello 9 Vai Dal 6 Al 9 Buono Ok Perfetto Ma se dopo Io che ho fatto Questo Sì Vabbè Non abbiamo capito Mettiamo anche Il geodood E questo Lo portiamo Al 10 Buono Raga 10 6 livelli Lo portiamo Al E lo portiamo In Charminion Questo Quanto Ci da Beh Niente E Vabbè Adesso Faccio Fare Faccio Far Qualche Partita Al Charmander Almeno Così Expa E Raga Io vi taglio Tutto Non vi preoccupate Ci rivediamo Dopo E Come posso Dire Ho fatto Expa Un po' Charmander Poi Ho Sono arrivato Qua Al boss E Cos'altro Devo far Vedere Ah è vero Il nuovo Pokémon Vai Vediamo Pokémon Tipo Acqua E raga Non vedo C'ho gli occhi Chiusi E Bello Schifo Raga Un applauso Per quanto è utile Sto Grimer Ciao raga Utilissimo E vabbè Che video E raga Ci vediamo Nel prossimo video Di questa serie Ciao Ciao